Lo scorso 22 febbraio è stata discussa presso l'Università degli Studi di Salerno la tesi di laurea triennale in Scienze dell'Educazione dal titolo Progettare per la Comunità, il caso del settembre culturale di Agropoli. La discussione ha permesso di centrare l'attenzione sulla manifestazione che si svolge nel comune di Agropoli, nella cornice del Castello Angioino aragonese, e Mario Pironti, il candidato che ha presentato tale lavoro di tesi, il quale ha suscitato l'interesse dell'intera commissione e di tutti coloro che hanno seguito a distanza la seduta di laurea. È la prima volta che la manifestazione assume un carattere scientifico durante la trattazione e infatti è emerso il background teorico che c'è dietro il lavoro di progettazione e realizzazione della chermessa agropolese. È stata una piacevole sorpresa, afferma il sindaco Adamo Coppola, sapere che il settembre culturale è stato al centro di un tavolo di tesi di laurea. Una chermesse cresciuta negli anni è divenuta ad oggi un punto di riferimento nel panorama culturale con ecchi nazionali. Tanti gli ospiti che si succedono ogni anno e ci danno modo di offrire una manifestazione di grande rilievo. C'è tanto lavoro dietro l'organizzazione del settembre culturale, afferma il consigliere con delega la cultura e ideatore della rassegna Francesco Crispino che dura tutto l'anno. Stiamo lavorando alla quattordicesima edizione e vi assicuro sarà di grande livello, Covid-19 permettendo. Il lavoro fatto in questi anni ci ha permesso di cambiare le prospettive. Da qualche anno sono gli autori e le case editrici a richiedere di partecipare alla manifestazione proprio per il posto importante che si è ritagliata nell'ambito della letteratura e della cultura in genere. È stato un privilegio, ha affermato il neo-dottore Mario Pironti, poter dedicare il mio lavoro di tesi ad una manifestazione tanto importante. L'appuntamento agropolese è fondamentale, infatti, non soltanto per la comunità locale ma viene ad essere centro di riferimento dell'intera campagna in quanto evento caratterizzante della terra cilentana. È stata anche l'occasione poi per poter ragionare sul futuro della Kermess stessa, conclude. Un appuntamento che merita di essere ampliato di anno in anno per un settembre culturale che sia sinonimo di rinascita dell'intera comunità regionale e, perché no, del meridione tutto.